Ciao a tutti, mi chiamo Sofia, ho 23 anni e abito a Vigonza in provincia di Padova. Ho studiato al liceo linguistico, ho fatto una laurea triennale in economia e commercio estero a Ca' Foscari a Treviso e ora sto studiando per una laurea magistrale sempre in economia in inglese. Oggi sono venuta perché insomma per i casting si sa che bisogna sempre presentarsi di persona e farsi vedere di persona anche per avere magari un po' di materiale aggiornato e anche per avere anche un'agenzia in più anche sotto Verona dato che forse un po' più sotto Padova o sotto Vicenza. Una mia passione, diciamo che è sempre stato il mio lavoro anche per mantenere gli studi, è la modella. Ho fatto parecchi shooting, sfilate, ho partecipato a Miss Italia nel 2019, sono arrivata in finale con il titolo di Miss Eleganza Veneto. Mi piace molto la musica, mi piace ballare, proprio sento il ritmo, mi piace leggere, stare all'aria aperta, dipingere e posare, quello sempre. Grazie a tutti.